sentila, quello è quello che fa il TCL Angela, quello la, quello che fa le gare con noi è una macchina gialla, si è stretta la veda lì oh, se te l'ha firmato sarà il firmato più complicato nel drive, sarà il tuo non me l'ha firmato, ma lo devo mettere qualcuno ce sa lui ok ma la pianta non va! la tua spacca la pianta ahahah ma fai una retromaggia cazzo ma non vai rocca! ce l'hai tacato dietro? non va, non gli va! no! no no! dietro! ovvio! dai! ci diventano i pepi qui! vai va! e buoni! vai! e buoni! bravo! bravo! senza blocco!